guarda che devi mettere un gancho oh, te la voglio non andate e perchè adesso un gancho? perchè adesso un gancho? dipendi, questo gancho tu devi sempre perchè per aiutare questo gancho devi fare sempre perchè sarà così il bilancio tu fai pass, vedi? sempre, sempre parampass, vedi? parampass e per quello lo serve un gancho ah ok, ok tu fai vedi, io ho detto poi ti prendo un gancho, tu fai pass tu fai pass ah no così, io ho sempre qui ragazzi oh eh, tu fai pass 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 eh, tu fai pass vuoi dare una cosa di merda va più grande con l'uva guarda, questo è una cosa di sfigata di merda e di gammare non è dato altra questo questo è tutto è tutto il differenzio non è vero che non si puoi non si puoi vuoi vedi tu il il si si come non si si questo è un'altra parte non è certo non è molto che ti dico che io ti attacco non puoi non ti? io ti attacco lì, guarda, io faccio tu riesci e io ti aggiungo lì è scusio io come vedo in futuro Io vado, tu devi essere molto più avancato che provi stai, devi essere in un'altra c'è presidente, il futuro è vicinato, il futuro è vicinato, il futuro deve attaccare il futuro, però devi cominciare. Non è un'altra città, non è una città, non è un'altra città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.